Ma la resurrezione dei cristiani è uno scandalo, non lo possono capire. E per questo Paolo fa questo ragionamento, ragiona così, tanto chiaro, no? Se Cristo è risorto, come possono dire alcuni tra voi che non vi è resurrezione dei morti? Se Cristo è risolto, anche i morti risusciteranno. C'è la resistenza alla trasformazione. La resistenza che l'opera dello Spirito che abbiamo ricevuto nel Battesimo ci trasformi sino alla fine. Alla resurrezione. E quando noi parliamo di questo, il nostro linguaggio dice ma io voglio andare al cielo, non voglio andare all'inferno, al cielo. Ma ci fermiamo lì e nessuno di noi dice io risusciterò come Cristo. No, anche a noi è difficile capire questo. Grazie. 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 Grazie.